Ciao, io sono una fan della gratitudine e desidero che anche voi ne conosciate più a fondo i benefici e abbiate voglia di praticarla spesso, ogni giorno, perché fa bene a tutto, corpo, mente, emozioni e spirito, fa bene a chi la pratica e a chi la riceve. Oggi insegno con gioia la gratitudine nei miei corsi motivazionali e nei miei ritiri di meditazione, trovo che sia una potente cura antistress nel quotidiano e antidepressiva nel lungo termine e ha tanti altri benefici e adesso sono felice di sapere e di dirvi che anche la scienza ne esalta i benefici. In una ricerca presso la California University nel dipartimento di psicologia è stato dimostrato con diversi esperimenti nella vita reale che la gratitudine riduce i livelli di cortisolo, l'ormone indicatore dello stress, e induce un senso di benessere, soddisfazione e stabilità emotiva e psicologica. Le ricerche scientifiche dimostrano che la gratitudine può abbassare la pressione sanguigna, allungare la vita, migliorare il sonno e la qualità di vita. Sembra incredibile, vero? Eppure funziona. Certo, in questo periodo di crisi sociale e conflitto, coltivare la gratitudine può apparire come l'ultima cosa che viene in mente di fare e quando si sente questa parola si pensa a qualcosa che riguarda la sfera religiosa e spirituale, ma invece proprio la scienza ha dimostrato che può essere la cosa più utile che ci sia. È molto importante ricordarsene proprio nei periodi negativi come questo, perché aiuta a contrastare le tensioni che minano la salute psicofisica e quando nel nostro flusso emotivo si presentano emozioni negative come risentimento, invidia, rabbia, rancore e insofferenza, sembra quasi impossibile, molto difficile avvicinarsi alla gratitudine. È difficile immaginare di provare un senso di gratitudine quando siamo preoccupati per la salute, il benessere, il lavoro, la famiglia e anche la stabilità sociale e in effetti è così, non si può negare. Ma non dobbiamo arrenderci alla sfiducia, il modo per superare le difficoltà interiori esiste e per fortuna è a portata di mano per tutti. Per vivere meglio interiormente e in salute sul mio canale trovate tanti altri video pieni di consigli. Per vederli tutti basta iscriversi con un click, così. Ci sono molti modi semplici per esercitare la gratitudine in quest'epoca controversa e una volta iniziato vorrete continuare a farlo. I benefici sulla salute ne valgono l'impegno. Ecco in questo mio video i più potenti esercizi di pratica della gratitudine per trasformare la vostra vita in un brevissimo tempo, con un solo minuto di pratica al giorno. E in questo altro video vi spiego alcuni segreti delle mie personali intuizioni sulla gratitudine a cui forse non avete mai pensato e che vi farebbe bene sapere. Nel frattempo condividete questo video per fare conoscere i benefici della gratitudine anche sui vostri social e ai vostri amici. Ve ne saranno grati. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo video naturalmente. Ciao! Ciao! Ciao!